Ciao, ti do il benvenuto su Mindwork. Sono Deborah Vlatkovic e sono una psicologa e psicoterapeuta di orientamento cognitivo costruttivista relazionale. Posso supportarti nell'affrontare problematiche come difficoltà nella gestione della rabbia, dell'ansia, problemi psicosomatici e autostima, problemi relazionali, traumi non elaborati e lutti. Lavoro per migliorare il tuo benessere personale e aiutarti a crescere. Credo fermamente che ogni passo verso la consapevolezza sia un passo verso un miglioramento personale. Ti accoglierò in uno spazio sicuro e non giudicante, dove sarà il centro dei nostri incontri. Insieme esploreremo le tue emozioni e il tuo vissuto, aiutandoti così a capire le tue capacità per crescere e cambiare. Consiglio Mindwork perché offre un accesso flessibile e comodo per un supporto psicologico di alta qualità. La piattaforma garantisce un ambiente sicuro con delle tecnologie avanzate per una comunicazione efficace tra terapeuta e paziente. Ti aspetto su Mindwork per il tuo benessere. Iniziamo questo percorso di crescita e scopriamo il tuo potenziale.